Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Un grande fine settimana a San Vito all'insegna della promozione del nostro territorio, dei nostri prodotti, la promozione della vitalità a San Vito al Tagliamento. Questa sera alle ore 18 ci sarà, si terrà un evento molto significativo per la nostra città. Insieme alla Cantina Bagnarol presenteremo il vino di San Vito, Terra Sancti Viti. Un evento di presentazione per noi molto importante che vedrà la presenza di Gabriele Giuga come giornalista, Maria Teresa Gasparet, sommelier e giudice sensoriale, Stefano Zanier, assessore alle risorse agroalimentari forestali ittiche e montagna della regione Friuli Venezia Giulia e l'onorevole Emanuele Loperfido, deputato della Repubblica Italiana. Un evento per noi molto significativo che rientra pienamente nella programmazione e nell'attività che stiamo portando avanti ormai da tempo per ciò che concerne la città del vino. San Vito al Tagliamento è città del vino e quindi per noi è veramente importante e significativo portare avanti queste iniziative di grande valore per l'attrattività, per sostenere e sviluppare la crescita del nostro territorio, l'attrattività e la valorizzazione dei nostri prodotti. Quindi questa sera siete invitati alle ore 18 in sala consigliare proprio per la presentazione del vino Terra Santi Viti. Naturalmente un ringraziamento particolare sentito all'azienda Bagnarol, all'azienda vitivinicola Bagnarol per aver portato avanti questo progetto importantissimo e di grande valore per la nostra città. Riparte dopo due anni di stop l'autunno sanvitese in collaborazione naturalmente col comune di San Vito, l'ASCOM e la nostra Pro San Vito, un evento di grande significato per la nostra comunità che porterà già da sabato il mercato alimentare con specialità tipiche regionali, stand aperti dalle ore 9 nel nostro centro storico e naturalmente i negozi aperti proprio per mettere insieme quei due caratteri che riguardano il nostro concetto di vitalità, la promozione culturale, la promozione enogastronomica e il sostegno alle attività commerciali. Un evento, una programmazione quella dell'autunno sanvitese che si intreccia con gli altri eventi culturali in essere in questo periodo a San Vito. Allora sabato 12 quindi domani presso la loggia la PSL Sorgive allestirà una mostra micologica e botanica sui funghi e le piante spontanee coltivate nel nostro territorio, sabato 12 e domenica 13. Mentre domani all'interno dell'evento, del piccolo festival dell'animazione, alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra disegni animati nella chiesa di San Lorenzo. All'ore 18 in auditorium l'inaugurazione del festival con la banda Rulli Frulli e la consegna, un altro evento veramente significativo, la consegna del premio e la carriera ad Altan, il padre della pimpa con appunto la presenza dell'artista. Dalle ore 17 circa poi la stessa banda Rulli Frulli si esibirà tra le vie del centro e la nostra piazza del popolo. Domenica 13, un altro evento veramente importante, alle ore 20.45 ci sarà l'apertura della stagione teatrale dell'Ert 2022-2023 con la presenza di Elio, lo spettacolo di Elio, ci vuole orecchio. E' uno spettacolo naturalmente musicale, ma non solo musicale, spiritoso, giocoso, per ridere insieme e ricordare il poetastro Enzo Iannacci. Sempre domenica 13, all'interno naturalmente della programmazione relativa alla promozione della città del vino e alla promozione, all'evento legato al vino Terra Sanctiviti, dalle ore 10 alle ore 18 presso le cantine Bagnarol ci sarà Cantina Aperte, un'iniziativa che permetterà a tutti noi di visitare la cantina, di conoscere tutti i segreti, naturalmente se vorranno dirceli, della cantina, tutte le caratteristiche e tutte le peculiarità appunto di questa importante realtà di San Vito Tagliamento e sarà possibile naturalmente anche degustare il vino Terra Sanctiviti insieme agli altri prodotti. Sempre domenica ci sarà la 83esima Coppa Città di San Vito nell'ambito del 43esimo torneo Triveneto di Ciclocross, questo sempre tra le vigne della tenuta Bagnarol, che ringraziamo naturalmente anche per questa disponibilità. Sempre in questo contesto, in Viale San Giovanni, proprio dove si trova anche la cantina, ci sarà l'installazione e l'inaugurazione ufficiale del cartello Città di San Vito, San Vito Città del Vino. Mentre, sempre questo fine settimana, come è già noto ma ci piace ricordarlo, Palinsesti, continua Palinsesti all'interno di questa programmazione, insieme all'autunno San Vito Città di San Vito, ricordiamo all'antiche carceri il premio in sesto, Palazzo del Tullio Altan alla mostra di Ella Gerlach, Alessi Catoia Bossoli, punto fermo dedicato a Graziano Negri e presso l'ospedale al complesso dei battuti, Bappe di colore. Mentre sempre domenica 13 novembre ci saranno diversi momenti musicali in tutto il centro storico. Siamo molto soddisfatti, naturalmente, di aver organizzato insieme a tutti i nostri partner un fine settimana così ricco e così bello per la nostra comunità, ma naturalmente anche per tutte le persone che vorranno venire a visitare San Vito e trovare così tanta vitalità. Grazie e buon fine settimana a tutti!